Il Venezia cerca punti importanti nella corsa alla promozione diretta, la regina vuole continuare la risalita. Due delle migliori squadre del generale di ritorno, arbitra Gariglio della sezione di Pinerolo. Avvio subito interessante, ma la prima emozione arriva al trentacinquesimo. Jonsen nel sinistro, incrocio dei pali, incredibile, bella comunque la giocata del norvegese. Prima dell'intervallo, calcio di punizione, Tugordo, palla dentro, modulo al sinistro, traversa, secondo legno consecutivo. Si chiude qui, un primo tempo comunque equilibrato. Con il montaggio siamo alla ripresa, i calabresi quando possono vengono sempre avanti. Ed era il cross, Pomini esce male, dichiara il sinistro, 1-0. Prima rete in campionato per l'esterno difensivo, bravo a farsi trovare pronto sull'indecisione del portiere. Il colpo per i lagunari è pesantissimo. Krizetic recupera il pallone per Scitum. Buono il controllo, Scitum si avvicina all'aria, il destro a giro, 2-0. Seconda rete in campionato per il Croato. Una perla la sua, che dà merito anche alla prestazione della squadra di Baroni. I padroni di casa con orgoglio si buttano avanti nel finale. Cernigoi, Carlson, tocca! Fuori! L'ultima azione, tre punti d'oro per Yamaranto. Finisce così. Venezia 0, Regina 2. Fuori! Eviglio! Diutarbi! Erik!